Una bomba Molotov è stata ritrovata questa mattina alle 8.30 davanti alla sede della CGL di Iesi. La bottiglia incendiaria era appoggiata a terra davanti al cancello della struttura di Via Colocci. Conteneva un liquido infiammabile e uno stoppino che ha provocato solo un principio di incendio, annerendo una parte della parete ma senza esplodere. A notare l'ordigno, ancora fumante, è stato un residente della zona che ha spento le fiamme e avvisato il personale del sindacato al lavoro. Per fortuna non ci sono stati danni a persone o cose, ma lì vicino c'era una cabina di contatori e in caso di esplosione le conseguenze avrebbero potuto essere molto più gravi. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Digos e la polizia scientifica che hanno sequestrato l'ordigno e ora indagano sull'episodio. I vertici locali del sindacato parlano di un grave gesto intimidatorio. La CGL ha già sporto denuncia contro i gnoti. Intanto hanno ribadito che il sindacato non si farà intimidire ed anzi hanno dichiarato invitiamo lavoratori, pensionati e cittadini a partecipare alla manifestazione di sabato a Roma. Solidarietà alla CGL è arrivata da più parti, anche dal presidente della regione Marche Francesco Acquaroli che ha telefonato alla segretaria Daniela Barbaresi. L'espressione del dissenso e delle diverse opinioni ha detto il governatore non deve mai sfociare nella violenza e in atti intimidatori che non sono mai giustificabili da qualsiasi parte essi provengano. Abbiamo piena fiducia nel lavoro degli inquirenti, ha concluso, affinché possono individuare quanto prima gli autori di questo gesto gravissimo per consegnarli alla giustizia.